buongiorno a tutti siamo giunti al sabato quindi a un nuovo fine settimana che ci porta alla seconda settimana d'avvento e quindi il cammino in preparazione al natale continua come è andata questa prima settimana quali traguardi spirituali avete raggiunto state seguendo il calendario dell'avvento che ho preparato per voi e che trovate sul sito donfrancescocristofaro.it bene detto questo però come tutte le mattine non solo ci salutiamo e ci auguriamo il buongiorno perché di buon augurio ne abbiamo bisogno tanto ma soprattutto vogliamo mettere questa giornata sotto lo sguardo di Gesù e di Maria e allora vogliamo pregare insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti. Vi ricordo che oggi avremo sempre alle 14.50 la coroncina, alle 17.20 il Santo Rosario e in diretta alle 18 potete seguire anche la Santa Messa della Seconda Domenica di Avvento. Ciao a tutti.